Compie 18 anni, il presepe vivente organizzato dall'associazione Xaoian è divenuto ormai un appuntamento fisso per la città di Trani. Ieri la prima con circa 3.000 visitatori, un lavoro che ha coinvolto 90 comparse e 30 operatori per l'allestimento. Diciottesima edizione del presepe vivente di Trani si torna nella sede naturale, nella sua casa. Sì, 18 anni di racconti, di rappresentazioni del presepe vivente, di avventure, 18 anni di incontri con tantissima gente come quella di stasera che in tante sta visitando il nostro presepe vivente. Questa è la prima delle rappresentazioni, le altre che giorni ci saranno? Sì, oggi 26 e domenica 29. Sono solo due giornate che comunque ci permettono di incontrare più di 5.000 visitatori. Solo oggi mi hanno comunicato che abbiamo superato le 2.500 persone. Quanti sono i figuranti? Quest'anno siamo su un'ottantina di figuranti che animano le varie scene. In modo particolare ci piace evidenziare i personaggi che raccontano proprio la storia legata al tema di quest'anno, che è tutto dedicato alla luce. Ecco, perché questa scelta? Un po' la provocazione ci è venuta da questa città di Trani addobbata, festa, con tutte queste lampadine dappertutto. Allora ci siamo chiesti, ma a Natale sono solo le lampadine che fanno festa o è anche qualcos'altro? Ecco, quella magia di Natale ci ricorda che quella notte è una notte veramente di luce, quella luce è un segno di speranza per l'umanità intera. E questo lo raccontiamo in questo presepe. Vino, 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 vino Grazie a tutti.